bentornati amici smokers nel video di oggi andiamo a fare l'unboxing della mia nuova pipa una da emosi caravaggio per chi non lo conoscesse da emosi caravaggio è un artigiano italiano che vende le sue pipe solo su ebay quindi bisogna andare su ebay digitare digitate da emosi caravaggio usciranno tutte le sue pipe settimanalmente cena 15 20 tipi diversi e partecipare a un'asta oppure anche contattarlo privatamente io già ce n'ho a qualcuna e mi sono trovato bene la felicità di un bambino a natale eccoci qua siamo pronti o se non l'avete ancora fatti iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche se vi è piaciuto il video un bel mi piace eccolo qua questo questo è il nuovo packaging sto già non so come parlo in inglese alla seconda grappa carino no e dentro la mia pipozza qui c'è una cosa che è un cura pipe chiesta parte carino cura pipe uscito fuori produzione fantastico cura vive è un pigino ha uscito la spada carino carino cura vive magari magari smetterò di usare il dito per pigiato bello adesso la pipozza bello il portapipe voi voi non potete capire quante quanti borselli cerco su misura dai cinesi e non li trovo mai questo semplicissimo ma utilissimo modello calabash allora come si presenta la musica ravaggio la scritta qua qui c'è questo questo rosso l'ho rusticata al prezzo questa l'ho pagata escluso il pigino l'ho pagata con tutto l'invio 45 euro bello il bocchino e questo colore rigato non l'ho visto questo particolare dalla foto questo queste rigature sfumate bello ma vedete bocchino sembra pure dritto accoppiamento basta un filino d'aria hanno bastato spostarlo leggermente carina andiamo a smontare è una senza filtro già dalla descrizione questo non riesco a capire se è una boccola sì forse questa non è questa parte qua rossa è come una boccola incastrata non è non è radica non saprei dire adesso non vorrei dire una corbelleria tipo di materiale che è incastrata qua alla radica e poi ci va il bocchino una delle cose che mi aveva attratto bella erano le misure la profondità del fornello e io questa me la vado a vedere subito perché mi dava profondità del fornello 5 e 5 quindi un bel fornellone lungo alla parete giustamente la punta in fondo è di più 5 e 4 non so se tutti sapete legge il calibro ventesimale non si vede una mazza non penso sia visto non era previsto questo non ho fatto nessun tipo di prova comunque vabbè un fornello profondo 5 e 5 la lunghezza della pipa mi dava cosa è smontato la lunghezza della pipa mi dava non mi ricordo quanto mi dava comunque questo arriva mi dava 16 mi sembra sì 16 16 e qualcosa poi se vogliamo andare proprio alti livelli di follia il peso non me lo ricordo però la possiamo ci posso provare da subito forse ce la fa così no possiamo provare da subito a pesarla se non mi sgomma al bicchiere 53 grammi non provo lo fa lo alzo al telefono ma è meglio che non lo faccio che la carico adesso gli assegno un tipo di tabacco chi lo sa comunque 45 euro bene amici smokers anche per oggi siamo quasi corti al termine non vi perdete la prossima puntata perché guardate un po' che sto fumando andiamo a parlare un po' di questo anche per oggi anche per oggi della cueva e tutto hasta la prossima amici smokers